Tradizionale pranzo natalizio nel sottochiesa di Piazza Giotto, organizzato da Comune Caritas e Cooperativa Sociale Agora. Vede la partecipazione e il supporto organizzativo di Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, CIA e Coldiretti e il lavoro dei comitati giovanili dei quartieri della Giostra del Saracino e dell'Associazione Migrantes. Caritas ed Agora hanno partecipato all'organizzazione del classico pranzo di Natale per le persone indigenti, per quelle che non hanno avuto la possibilità che in questi ultimi mesi, in quest'ultimo anno, sono sicuramente molto aumentate in quanto le nuove povertà si stanno evidenziando ancora di più anche a livello alimentare. C'era il pranzo di Natale nel sottochiesa di Piazza Giotto, chiaramente hanno partecipato numerose figure istituzionali e anche industriali come l'Associazione Industriale, la Confartigianato, la Confesercenti, la Confagricoltori. Ma la cosa che mi preme segnalare è l'importanza dei giovani, in quanto i giovani dei quartieri saranno lì a organizzare la parte di organizzazione gestionale e poi ci saranno i giovani dell'Associazione Migrantes Don Bosco, che sono anche non italiani, che invece daranno un contributo nel servire a tavola. Quindi questo è un aspetto importante, dove dimostra che solidarietà si può fare e si deve fare a tutti i livelli, specialmente in questa giornata, che ci auguriamo che non sia l'unica nell'arco dei 365 giorni dell'anno. Oltre al classico appuntamento nel sottochiesa di Piazza Giotto ad Arezzo, quest'anno il pranzo di Natale della Caritas per i poveri raddoppia. Sarà infatti ospitato un secondo evento alle stanze, il Caffè dei Costanti in Piazza San Francesco. Un'idea dei due soci, Marco Grotti e Pietro Brocchi, che porterà un Natale più sereno ad altri 60 cittadini inviati dalla Caritas. Per loro una sala interna riservata, un menù completo dall'antipasto al dolce, con la possibilità di scegliere tra carne e pesce. Io credo che il Natale sia un momento in cui c'è una sensibilità maggiore, c'è un momento in cui si notano di più le difficoltà che hanno gli altri, è un momento in cui fare solidarietà è particolarmente importante per dare anche la serenità, dare quel pizzico di felicità a chi ne ha bisogno e chi non se lo può permettere. Purtroppo la solidarietà dovrebbe essere fatta tutto l'anno. In questo momento noi riusciamo insieme al Comune, insieme alle associazioni, ad organizzare soprattutto insieme alla Caritas un pranzo che ha un significato di avvicinare le persone.